Aset Holding chiude il bilancio 2014 con un utile netto di 563.712 euro, accodandosi in continuità ai bilanci prodotti in questi anni dalla Holding che attestano ancora una volta la corretta ed attenta gestione della società. Bilancio ha provato l'unanimità dai soci il 3 luglio scorso, confermando così lo stato di buona salute in termini economici e finanziari della società pubblica Aset. Questa mattina la Presidente Susanna Testa, affiancata dai consiglieri Teodosio Auspici e Gianluca Cespuglio, ha voluto rendere partecipe la comunità di tutti gli aspetti della gestione dei servizi e della progettualità messa in atto in questo segmento di mandato che il nuovo CDA ha affrontato. Per quanto riguarda i progetti, i progetti molti, a partire appunto dalla gestione delle farmacie, la realizzazione dell'impianto di cremazione, l'implementazione e il miglioramento delle soste a pagamento, delle aree di soste a pagamento, la riqualificazione e poi appunto l'illuminazione votiva e quindi tutti quanti i servizi che gestiamo adesso ma gestiamo al meglio sono sempre stati e che cercheremo chiaramente di migliorare. Anche il tema della fusione è stato messo sul tavolo con un messaggio chiaro, assicurando il rispetto dei tempi in base alla delibera del Consiglio Comunale delle linee di indirizzo del 4 marzo scorso. Ecco, un tema anche importante è quello della fusione, avete accolto bene sostanzialmente l'advisor e ci tenete a sottolineare che siete pro fusione ma con norme certe e in maniera dovuta. Sì, noi ci siamo attenuti strettamente a quanto è stato deliberato dal Consiglio Comunale di Fano a febbraio e abbiamo ovviamente dato il via a tutta l'intera procedura, procedura che ovviamente ha dei tempi perché abbiamo qualificato le società che hanno manifestato l'interesse a svolgere questo compito di advisor e successivamente abbiamo elaborato il disciplinare che ad oggi è stato inviato all'ufficio del gabinetto del sindaco perché deve essere poi approvato dalla Giunta Comunale. Quindi ci sarà successivamente il passaggio e l'invio alle diverse società.